Buongiorno a tutti e ben ritrovati con l'informazione di Molise TV. Oggi è venerdì 6 maggio e anche questa mattina iniziamo il nostro appuntamento dedicato alla rassegna stampa, leggendo insieme le notizie del quotidiano interno alla nostra redazione, quindi del quotidiano online Tutto Molise. In risalto, convocata la riunione dei capi gruppo per la programmazione della prossima riunione. Intanto il consigliere Salvatore Ciocca esprime le sue perplessità per l'assenza durante l'approvazione del bilancio regionale 2016 di alcuni consiglieri. Scadono domani, sabato 7 maggio, i termini per la presentazione delle liste per le amministrative del 5 giugno. Grande attesa ad Isernia, dove Emilio Izzo ha sciolto le riserve e ieri mattina ha ufficializzato la sua candidatura con Isernia domani. Nel taglio basso invece 5 maggio, interamente dedicato a Lea Garofalo, collaboratrice di giustizia uccisa dall'Andrangheta nel 2009. E proseguiamo adesso insieme il nostro appuntamento, leggendo le notizie del quotidiano del Molise. In risalto, la sanità, il vietri chiude, il comune querela, esposto in procura per il sindaco, si configura l'interruzione di pubblico servizio. I tagli all'ospedale di Larino rischiano, secondo l'amministrazione, di farlo chiudere. Per questo motivo è stato presentato un dettagliato esposto in procura. A Larino notarangelo contro il riordino sanitario non sono state rispettate le sentenze della magistratura amministrativa. Nel taglio alto, la cronaca, le porte di Isernia, Branco di Lupi, Sbrana, Ungregge, pacco con 30 kg di marijuana ripescato dalla Guardia di Finanza. Ennesimo ritrovamento di droga da parte della Finanza, che stavolta sequestra un pacco con all'interno 30 kg di marijuana. L'involucro galleggiava l'imbocco della foce del fiume Saccione. Nel 2014 furono recuperate due tonnellate di stupefacenti perse in mare. Continuiamo con la cronaca giudiziaria. Mago Bruno spera nei servizi sociali. Ieri nuova condanna in corte d'appello. E Campobasso gratta e vince 100.000 euro. Il fortunato è il titolare di un autolavaggio. Ancorata in protesta, il governo utilizzi personale in graduatoria. La direzione scrive al premier Matteo Renzi. Interrogazione, ruta e piccoli uffici postali non si toccano. Nel taglio basso, Lea Garofalo ha pagato la libertà con la vita. Sognava un mondo più giusto. Lea Garofalo, la testimone di giustizia uccisa dall'Andrangheta, è stata ricordata ieri alla Petrone, nel corso di una giornata in suo onore. Presente anche la sorella, Marisa Garofalo. Passiamo adesso allo sport. Serie D, Lupe, Perrucci. La società è stata messa in sicurezza. Libertice, eccellenza, tentato illecito. In giornata di prime risposte dalla Procura. E calcio violento, stop di tre anni per Barisciani del Campobasso 19-19. Squalifiche anche in prima. E continuiamo adesso il nostro appuntamento. Le donne insieme le notizie di primo piano Molise. In risalto, anche in questo caso, la sanità piano operativo manovra da 35 milioni di euro. Tagli e risparmi per la struttura commissariale, la diminuzione della spesa porterà nel 2018 al pareggio dei conti. Ma l'integrazione tra Cattolica e Cardarelli continua a far discutere. Ultimo passaggio per l'attuazione del programma, l'accordo in conferenza Stato-Regioni. La finanza sequestra 30 chili di droga sulla spiaggia di Campomarino. Il carico di marijuana avvistato con un elicottero era vicino alla foce del fiume Saccione. Lo stupefacente avrebbe fruttato 300 mila euro. Nel taglio laterale, poi, Palazzo Moffa in tre non votano il bilancio. Petraroia risponde a ciocca, ero al pronto soccorso. E ancora la polemica, il Molise non è Firenze, sulla promozione turistica c'è pure chi dà ragione a Renzi. Isernia, Branco di Lupi assalta un ovile strage di pecore e agnelli. Nel taglio basso, mia sorella uccisa dall'andrangheta è abbandonata dalle istituzioni. La denuncia di Marisa Garofalo. La testimonianza nella città, ovvero Campobasso, dove lei ha subito un tentativo di sequestro. E dal tribunale, pena ridotta in appello al mago Bruno, ora potrebbe essere affidato ai servizi sociali. Era finito in manette nel 2009 con l'accusa di circonvenzione di incapace. La pena in secondo grado gli è stata ridotta a 5 anni e 3 mesi. Il mago Bruno, arrestato nel 2009, ora potrebbe pagare il conto con la giustizia in affidamento ai servizi sociali. Proseguiamo adesso con una notizia proveniente dall'Abruzzo, in particolare dalla zona di Vasto. Atti vandalici e violenze in via Adriatica, identificati colpevoli, la polizia incastra tre giovani del posto. Vediamo adesso le notizie sportive. Lupi, perrucci, messa in sicurezza la società sul futuro. A Liberti, capopopolo, alla Molinari e calcio regionale, violenza sugli arbitri, arrivano le stangate. Petrella alza la voce, offesa la nostra dignità di uomini. Ancora pallacanestro, play-out, derby chiave nella serie tra Dynamic Venafro e Isernia. Ultima chiamata per Vasto contro Taranto. E andiamo adesso avanti con le notizie del quotidiano online, agenzia stampa Molise. In risalto, mozione del Consiglio nazionale della Federazione nazionale stampa italiana su sospensione Giuseppe Di Pietro, presidente di Assostampa Molise. E poi Confcommercio incontra le imprese dell'Alto Molise, omissione di atti d'ufficio, quando il silenzio della PA è reso, se non risponde, al privato referendum scuola in Molise, già raccolte oltre 1.500 firme. E ancora Antonio Federico, fusione Fondazione Cardarelli, roba da non credere, spunta il fitto da pagare alla Fondazione. Ancora Isernia, operazione antidroga dei carabinieri, 19enne fermato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Termoli concessioni e suoli cimiteriali per cappelle gentilizze al via Lasta Pubblica. Nei quotidiani locali passiamo a quelli nazionali e vediamo insieme la prima pagina della Repubblica. In risalto Renzi, Merkel, Vienna sbaglia, ma resta il no sugli eurobond, al lavoro sul piano alternativo, migranti, il Papa prepara un discorso storico e tre anni a Soru, un nuovo scontro, giudici, governo, evasione fiscale per l'esponente PD, caso CSM e Premier Orlando, chiarire. E ancora a Palmira suona la musica della pace e così faremo rinascere la città ferita dall'Isis. Prossimiamo adesso il nostro appuntamento, leggendo insieme le notizie del Fatto Quotidiano. Anche Orlando contro i giudici, tre anni a Soru per evasione, il foglio inventa un titolo su Morosini e il ministro va alla guerra. Nel taglio alto i musei Franceschini e i fondi Ad Moliem e poi Sicilia e Calabria, la fine dell'antimafia. Continuiamo adesso con le notizie di Libero. Il giro d'Italia dei PM fa sempre tappa dal PD, tre anni al segretario del partito in Sardegna, sconcerto al Nazareno, dove si accorgono solo oggi che questo è il paese degli arresti preventivi e degli avvisi di garanzia che sono condanne, ma finché toccava agli altri, evasione fiscale, condannato Soru. E' obbligato ad assumere la modella col velo, sentenza shock a Milano nel taglio basso, assalto a Salvini, strappati anche i libri, le ghissano un po' più parlare in pubblico, ma pare normale. Andiamo adesso avanti con le notizie della Gazzetta del Mezzogiorno. Il semiasse Merkel-Renz si è accordo sul no ai confini chiusi al Brennero, ma non sugli euro bond. Il presidente Ips va contro i vitalizi parlamentari, costi insostenibili. Le frontiere aperte ai migranti uniscono i due leader, l'economia li divide. Il premier italiano ponge la Bans Bank. E' pressing sulla regione, ma Emiliano non firma, boccia, lui sbaglia a rifiutare le risorse, così le imprese rischiano di morire, il rischio di perdere i soldi per il sud. Nel taglio alto Bari, i nipotini del boss presi con le pistole, i due adolescenti sorpresi armati a Luna Park. Lo zio Tonino Capriati era uno dei capi di Bari Vecchia. E poi emergenza nei campi, stavolta per i cinghiali, invasioni sulla morgia e fino a Potenza. Si moltiplicano le attacche alle persone e agli altri animali. Nel taglio basso Bari in campo, stavolta la vittoria è d'obbligo. Stasera il Cagliari al San Nicola, ai Sardi basta il pareggio. Vediamo adesso insieme le notizie di avvenire. No all'Europa a pezzi, Renzi Merkel uniti per Schengen, Vienna sbaglia, Parolin nel continente servono ponti e solidarietà. Nel vertice italo-tedesco, questioni migranti al centro. L'Austria fuori dalla storia, ma rimangono le divergenze sulle misure da adottare. E poi il concerto per la rinascita di Palmiro, orchestra russa, ad Aleppo si spara meno. E CSMPD ancora a bufera il premier, niente guerre. Membro togato contro il governo, poi smentisce, solo condannato a tre anni. Dalle notizie di cronaca passiamo adesso a quelle sportive. Leggiamo insieme le notizie del Corriere dello Sport. In risalto Allegri firma oggi il regalo Eisco e il tecnico e la Juve insieme fino al 2018 varato anche il piano mercato patto con il Real. Se parte Morata arriva il trequartista. Nel taglio alto il Milan a Madrid, obiettivo Kovacic in attesa dei cinesi. Decolla il mercato rosso-nero, il Liverpool va in finale e il Siviglia cerca il Tris. Ancora a sport, vediamo insieme la prima pagina della Gazzetta Sportiva. In risalto Nibali contro tutti, giro al via la 99esima edizione. Ibra c'è un derby made in Cina per riportare Zlatlana a Milano. Ed è Uruguay, Italia a rischio, anche Verratti e risale De Rossi. E con questo è veramente tutto. Grazie per aver scelto l'informazione di Molise TV. Vi lascio al Meteo e vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci. Il Meteo è offerto da Signora, dico a lei. Acconseglie assegni, spendi e risparmi di Molise TV. Corri a fare la spesa. Spendi e risparmi conviene. Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere. Previsioni del tempo per venerdì 6 maggio. Alta pressione ma concorrente al suolo da nord-est su Molise, Puglia e Basilicata. Condizioni dunque di bel tempo prevalente pur con qualche nube sparsa di passaggio che nel pomeriggio potrà dar luogo ad isolati temporali sull'Appennino. Temperature in lieve aumento, massime intorno ai 20-22 gradi. Ma vediamole nel dettaglio. Campobasso minima 7, massima 17 gradi. Isernia minima 7, massima 19 gradi. Termoli temperature comprese tra i 13 e i 17 gradi. Il meteo è stato offerto da... Signora, dico a lei. A conseglie assegni spendi e risparmi di Molise TV. Corri a fare la spesa. Spendi e risparmi conviene. Spendi e risparmi non sono sconti. Ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV. E la famiglia torna a sorridere.